Il gruppo operativo nasce nell'alveo del GAL perché come il GAL l'operazione mira a mettere insieme i pezzi e gli attori dell'agricoltura del territorio per valorizzarlo e per renderlo competitivo. Con questo obiettivo è nato a Raiano con la cooperativa Anzape a fare da capofila il gruppo operativo del PEI Valle Peligna, un partenariato per l'innovazione cioè creato per superare, con l'aiuto della ricerca, limiti e ostacoli del settore olivicolo che per la rustica e gentile varietà peligna vuol dire soprattutto risolvere la questione degli anni di piena a cui seguono di solito tre o quattro anni di bassa resa. La ricerca deve tendere a questo, cercare di dare a queste piante, dare alla coltivazione quel qualche cosa che consente una stabilità e una produzione costante. Il progetto si chiama Olivalpe e lo sta portando avanti il Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Teramo, lavorando in particolare su una tematica in parte nota che è quella della concimazione fogliare che potrebbe arrivare a sostituire integralmente quella tradizionale con benefici in termini qualitativi e quantitativi. I vantaggi di questo tipo di intervento sono che è possibile somministrare questi elementi in quantità piccolissime, possiamo avere un risparmio di oltre il 90% nelle quantità che ordinariamente vengono somministrate al suolo, se diamo gli elementi alle foglie, possiamo dare gli elementi alle foglie nei momenti in cui la pianta ne ha più bisogno. Tutto ciò tende a rendere la nostra regione competitiva sotto l'aspetto della sostenibilità complessiva che parte da un valore che è quello dell'ambiente e dentro ci mette tutta l'innovazione sapendo che l'agricoltura è il settore primario ed è un settore che in Abruzzo fa reddito, fa pilo ma fa soprattutto storia, identità e tradizione che è uno degli elementi che caratterizza con la nostra qualità i nostri prodotti. E per caratterizzarli i prodotti e l'olio in particolare si sta ora lavorando finalmente ad un marchio unico abruzzese, una certificazione cioè che, pur nelle differenze di varietà, garantisca qualità e immagine alla produzione regionale. Stiamo facendo per la prima volta che è quello che chiedono tutti l'IGP unico abruzzese perché la frammentazione è stata uno di quegli elementi che ha determinato la poca incisività sul mercato da parte dei nostri oli.